ciao a tutti e bentornati su about biology come abbiamo detto nello scorso video che se non hai visto ti consiglio di recuperare trovi il link qua sotto in descrizione o qua in alto a destra nelle schede gli elementi sono ordinati nella tavola periodica in base alle loro diverse proprietà e caratteristiche una prima analisi delle caratteristiche fisiche porta a dividerli in tre grandi categorie i metalli i non metalli e i semi metalli introduciamo brevemente le caratteristiche di ognuna di queste categorie i metalli sono identificabili da alcune caratteristiche fisiche particolari sono infatti solidi a temperatura ambiente tranne il mercurio il cesio e il gallio che invece sono liquidi sono lucenti infatti si parla di una lucentezza metallica sono anche duttili e cioè si possono ridurre in fili sottili hanno poi la caratteristica della malleabilità quindi si possono ridurre in dei fogli sottili per esempio martellandoli sono inoltre buoni conduttori sia di elettricità che di calore e infatti tutti i fili elettrici sono metallici e si usa soprattutto il rame e l'alluminio e infine i metalli reagiscono facilmente con l'ossigeno andando a formare gli ossidi tra i metalli troviamo poi quelli alcalini come il litio il sodio e il potassio poi ci sono gli alcalino terrosi e i più importanti sono il magnesio e il calcio e altri metalli che si trovano al centro della tavola periodica che possono essere per esempio il ferro il rame o l'oro i non metalli si ritrovano nella parte destra della tavola periodica a eccezione però dell'ultima colonna che comprende i gas nobili che non sono reattivi in quanto hanno l'ottetto completo ma di questo parleremo in un altro video per il momento è importante capire che le caratteristiche dei non metalli riguardano il fatto che a temperatura ambiente possono essere solidi alcuni liquidi come il bromo e per la maggior parte invece gassosi sono opachi e non sono né duttili né malleabili e infatti sono molto fragili quindi se si vanno a piegare questi si rompono e inoltre sono dei cattivi conduttori di calore e di elettricità fa eccezione invece il carbonio sotto forma di grafite i non metalli più importanti per gli organismi viventi sono il carbonio l'azoto l'ossigeno il fosforo lo zolfo e il cloro inoltre i non metalli che si trovano nella penultima colonna quindi nel penultimo gruppo si chiamano alogeni e sono per esempio il fluoro il cloro il bromo e lo e infine a cavallo di una linea diciamo a scalini che separa metalli e non metalli che va dal boro alla stato si trovano alcuni elementi chiamati semi metalli in quanto hanno delle proprietà intermedie tra quelle dei metalli e quelle dei non metalli i semi metalli o semiconduttori sono il boro il silicio il germanio l'arsenico il selenio l'antimonio il tellurio e la stato nella tavola periodica i semi metalli si trovano a cavallo tra i metalli e i non metalli a sinistra dei semi metalli abbiamo i metalli mentre a destra ci sono i non metalli i semi metalli sono dei conduttori particolari perché con opportune forme cristalline particolari drogaggi di contaminanti diventano dei semi conduttori o semi isolanti in natura però i semi metalli si comportano da soli quindi come non metalli ma di base a noi basta ricordare che il fatto che siano tra metalli e non metalli nella tavola periodica è perché questi hanno delle proprietà intermedie tra le due categorie benissimo con questo breve video volevo racchiudere nel minor tempo possibile i concetti da sapere su metalli non metalli e semi metalli dal prossimo video di chimica inizieremo un nuovo capitolo molto importante che scoprirete solo seguendo about biology per questo ti consiglio di iscriverti al canale per non perderti tutti i prossimi contenuti e in più ti basta soltanto un clic ma al canale fa una grande differenza ti ringrazio quindi per l'attenzione e a presto da about biologi